Erichy, te pare che vieni qua a casa mia e mi combini così? Stamattina ero così carina! Hai trasferta? Ma cos'è sta cosa? Sembro un personaggio dei cartoni, orribile! Però poi mi farai carina! Molto! Ci proviamo, che dice? La festa di Tommaso è stata organizzata in maniera molto particolare con un dress code molto rigido. C'era infatti una lunga tavolata per metà nera e metà colorata e gli invitati hanno dovuto vestirsi e sedersi in base al posto assegnato loro. Molto originale! Alla prossima! Grazie a tutti